Scusi, con nuovo, mi sapete l'ora, per favore? Dei 5.35 Ma è sicuro? E' 36, mo' Grazie Prego Ha mangiato il ciugino, eh? E no? Senta, mi sa dire che dove sono adesso? Androrta De 7.25 Su, ma sono le 7.25 spaccate, vincere lì Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciugino, scusa? No, io le arzo, sotto c'è il campanile, vedi? Sì, vedi, 7.25